Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense, diversa cronaca, episodi di cronaca registrati soprattutto in provincia di Ferrara, di questo vi parleremo nella nostra edizione del TV giornale, parleremo anche dei danni, del maltempo di queste settimane, diversi istituti di credito si stanno facendo avanti per cercare di agevolare, insomma con finanziamenti a tassi agevolati, le famiglie, le imprese colpite dalla grandine, dal forte vento che ha messo in ginocchio molte zone della provincia di Ferrara. Poi parleremo di dialetto, di commedia dialettale, parleremo della straferrara che ha compiuto 88 anni, parleremo anche di un appuntamento importante per Ferrara, per la sua provincia, soprattutto per il Lidia, è quello di martedì 20 agosto, Lidio degli Estensi, dove arriverà Giovanotti con il Giova Beach Party ed è arrivata un'ordinanza per la chiusura della strada statale Romea per più di tre ore a partire dalle 23.30 di martedì 20 agosto sino alle tre di notte di 21, naturalmente ci saranno dei percorsi alternativi, parleremo anche di SPAL perché si è conclusa la seconda fase della campagna abbonamenti, vediamo come è andata. Ma apriamo, dicevamo con la cronaca a Cento dove nella giornata di Ferragosto un uomo ha rubato un'auto, si è messo al volante ubriaco e mentre fuggiva in seguito dai carabinieri ha rischiato di travolgere una giovane mamma e i suoi due figli in bicicletta. Dicevamo è successo a Cento, è stato arrestato questa persona, tra l'altro già nota alle forze dell'ordine, si tratta infatti di uno spacciatore. Ha rubato le chiavi appoggiate da un cliente sul bancone del bar, è uscito in fretta dal locale, poi ubriaco, è salito sull'auto ed è fuggito ad alta velocità costeggiando il parco lungo Viale Iolanda per rimettersi poi su Via Matteotti. Ma dopo un inseguimento da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile è stato bloccato ed ora si trova agli arresti domiciliari. È successo nel giorno di Ferragosto verso l'una del pomeriggio a Cento a finire nei guai un 48enne magrebino pericoloso e già noto alle forze dell'ordine. L'uomo che risiede a San Carlo nel comune di Terre del Reno da tempo era sotto controllo da parte dei militari per la sua attività di spaccio che svolgeva con altri extracomunitari soprattutto nell'area del parco della rimembranza di Cento. Il 48enne, mentre fuggiva a bordo dell'auto rubata, ha rischiato di investire una giovane donna e i suoi figli che in quel momento stavano passando in bicicletta lungo Via Matteotti. A scongiurare il peggio sono stati i carabinieri che sono riusciti a bloccare il nordafricano e portarlo in caserma dove quest'ultimo si è scagliato contro uno dei militari colpendolo al braccio. L'uomo è stato arrestato e ora in attesa dell'udienza direttissima dovrà rispondere di furto aggravato, inflagranza di reato e di resistenza pubblico ufficiale. Cento ci spostiamo a Consandolo dove una coppia di italiani questa notte è stata arrestata dai carabinieri per oltraggio, violenza, resistenza pubblico ufficiale e per lesioni aggravate. I due italiani, lui di 55 anni pregiudicato e lei di 45, convivente dell'uomo, hanno aggredito i militari con calci e pugni dopo che una pattuglia di carabinieri di Porto Maggiore era intervenuta presso la loro abitazione per una segnalazione per schiamazzi da parte di un privato cittadino. Bloccati e accompagnati in caserma, i due ora si trovano ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo. I militari colpiti dalla coppia sono stati medicati dell'ospedale di Argenta e dimessi con prognosi. Biperbanca a fianco delle famiglie e delle imprese che hanno subito pesanti danni per le grandi nattie e il forte vento che si sono abbattuti nei giorni scorsi in diverse zone della provincia di Ferrara. L'istituto di credito infatti mette a disposizione dei finanziamenti fino a 5 mila euro per le famiglie e fino a 100 mila euro per le imprese per una durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro verrà applicato il tasso zero per i primi sei mesi e successivamente il tasso fisso per l'1%. Per importi superiori il tasso sarà fissato all'1%. Le domande potranno essere avanzate sino al 31 ottobre 2019. Con questo intervento dichiara Marco Litt, referente della direzione territoriale Ferrara Biperbanca, l'istituto vuole confermare l'attenzione e la vicinanza ai paesi e alle zone così duramente colpite dal forte maltempo, sostenendo le famiglie e le imprese nell'avviarsi il più rapidamente possibile lungo il cammino della ripresa. Cambiamo argomento perché sono oltre mille i pasti recuperati a Ferrara nel primo semestre del 2019 grazie al progetto Civo Amico realizzato da Aera con il supporto di Last Minute Market con l'obiettivo di promuovere la lotta contro lo spreco alimentare. Prosegue il progetto di recupero dei pasti non consumati nelle mense aziendali promosso da Aera con Last Minute Market che a livello regionale vede coinvolte cinque onlus e sette strutture beneficiarie. Nei primi sei mesi del 2019 i pasti donati solo dalla mensa Aera di via Diana Ferrara sono stati quasi mille. Nell'arco di tutto 2018 i pasti recuperati dalla mensa ferrarese furono 1.900 per un valore economico che ha quasi raggiunto gli 8.000 euro. A questo ora si aggiunge un ulteriore risparmio di oltre 4.000 euro equivalente al costo dei pasti recuperati nel primo semestre 2019. Un risparmio che ha consentito alla onlus coinvolta di investire le risorse così liberate in altri progetti. Si tratta dell'Associazione Viale K che provvede al ritiro delle eccedenze alimentari e alle loro redistribuzione quotidiana ad altri enti beneficiari. La Casa delle Donne Centro Antiviolenza, la Casa Mambro che accoglie persone in difficoltà sociale e abitativa e la Mensa di Via Gaetano Pesci per persone in difficoltà economiche. Realizzato con il supporto di Last Minute Market, società spin-off dell'Università di Bologna che promuove la lotta allo spreco e la sostenibilità ambientale, il progetto del gruppo ERA è entrato nel suo decimo anno di attività. Attraverso un servizio sostenibile e solidale, le eccedenze alimentari sono di sostegno a circa 115 persone in difficoltà ospitate in sette strutture dedicate. In dieci anni sono stati recuperati quasi 96.500 pasti per un valore che sfiora i 400.000 euro, oltre ad evitare la produzione di oltre 44 tonnellate di rifiuti per un volume pari a circa 91 cassonetti. Strada statale Romea chiusa al traffico per più di tre ore, dalle 23 e 30 di martedì 20 agosto alle 3 del mattino di mercoledì 21 agosto. L'ordinanza della chiusura è arrivata dall'ANA su una decisione presa in concomitanza del concerto che Lorenzo Giovanotti terrà a Lido degli Estensi la sera di martedì 20 agosto. La Romea sarà quindi interrotta al traffico, tranne che per i mezzi di emergenza, in un tratto di 15 chilometri, compreso tra Casal Borsetti e Porto Garibaldi in località Collinara. Naturalmente ci saranno i percorsi alternativi. Il traffico con direzione sud, quindi verso Ravenna, verrà deviato all'altezza del raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi in direzione della strada statale 16 Adriatica e il traffico con direzione nord, quindi verso Venezia, verrà deviato in corrispondenza della rotatoria di Casal Borsetti, sempre in direzione della strada statale 16 Adriatica. Gli automobilisti troveranno la necessaria segnaletica di modifica della viabilità con il presidio delle forze dell'ordine. Naturalmente sul Giova Beach Party di Giovannotti, insomma, torneremo anche nei prossimi giorni perché c'è una grande macchina organizzativa che sta, insomma, mettendo a punto diverse situazioni. Ora parliamo della straferrara perché sarebbe la compagnia teatrale dialettale più antica e il 14 agosto ha compiuto 88 anni. Dicevamo la straferrara che è in tour anche in questi giorni ferragostani, nonostante l'età. È l'unica compagnia di lingua dialettale in Italia da avere alle spalle tutti questi anni di lavoro ininterrotto, aveva sottolineato Maria Cristina Nascosi, esperta di cultura dialettale, in occasione della pubblicazione di un libro che ne ripercorreva i primi 70 anni. Stiamo parlando della straferrara, compagnia storica dialettale che lo scorso 14 agosto di anni ne ha compiuti 88. Quasi nove decenni di rappresentazioni e di scene di vita ferrarese che si sono alternate nella lunga esistenza della compagnia, poiché il suo lavoro ininterrotto anche in tempo di guerra sotto i bombardamenti, ha reso possibile la storicizzazione della trama e dell'ordito della vita della città di Ferrara con cui, continua a spiegare l'esperta di cultura dialettale, anche nella denominazione si è in qualche modo identificata. Fondata nel 1931 da Ultimo Spadoni, la straferrara esordisce il 3 settembre dello stesso anno al Teatro dei Cacciatori di Ponte Lago Scuro con la commedia Padar, Fiol e Stefanin di Alfredo Pitter e da allora non ha mai interrotto la sua attività. A dimostrarlo ci sono i registri di scena che Rossana Spadoni, per tutti Cicci Spadoni, primatrice e grande professionista delle scene, ancora custodisce e nei quali prima il padre ultimo, poi il marito Beppe Fagioli e ora lei, hanno annotato meticolosamente ogni informazione sulla compagnia, dall'esordio sino ai giorni nostri. Un compleanno che la straferrara, nonostante non abbia mai avuto in città una sede fissa, ha festeggiato in scena presso il centro sociale La Rivana con un classico della sua drammaturgia migliore, Priok Anfama e l'Alba, scritta dallo stesso Spadoni e da Walter Marescotti. Scene che la straferrara continuerà a calcare, questo è il nostro augurio per tanti e tanti anni ancora. E in questi giorni stiamo parlando di un progetto, il Riabilitango, che serve per migliorare la vita dei malati di Alzheimer e dei loro familiari, un progetto coordinato e gestito dall'associazione AMA di Ferrara che andiamo a conoscere più da vicino. Si è costituita Ferrara nel 1998 grazie ad un gruppo di familiari di malati di Alzheimer e ha lo scopo di accompagnare le persone ad accettare una malattia che ancora oggi spaventa. Stiamo parlando di AMA Ferrara, associazione malati Alzheimer, in prima linea per dare aiuto, informazioni e sostegno agli ammalati e alle loro famiglie. Io credo che il ruolo proprio dell'associazione sia quello di insegnare alle persone a non chiudersi in casa, a non isolarsi, a non rimanere soli e questo ti dà la possibilità uscendo di vedere che anche tante altre persone sono nelle tue condizioni e facendo gruppo, auto aiutandosi fra di loro, abbiamo visto che si superano molto bene anche certi momenti molto difficili. Abbiamo visto le persone che quando viene fatta la diagnosi sono molto disorientate, non sanno dove rivolgersi, ci sono ancora difficoltà a conoscere anche i servizi sociali ai quali rivolgersi, quindi uno dei nostri compiti è proprio quello di dare le indicazioni di dove andare a parlare con l'assistente sociale e di parlare dei loro bisogni, perché i bisogni delle persone ammalate sono bisogni di tipo sanitario, però i bisogni dei familiari sono veramente bisogni che sono molto pesanti. Tre punti di ascolto a Ferrara, altri tre in provincia, Bondeno, Cento e Comacchio, l'associazione nel tempo coordina e gestisce progetti che mettono al centro gli ammalati e le loro famiglie coinvolgendoli in attività come ad esempio i laboratori. Facendo dei laboratori diamo la possibilità anche ai familiari di vedere che la persona ammalata tenuta in casa, seduta sul divano a guardare il televisore, non ha nessuno stimolo, non ha più nessuno scopo e di conseguenza bisogna insegnare a usare gli stimoli che ci sono in giro. Noi facciamo queste cose, stimoliamo, facciamo i laboratori dove facciamo fare dei lavori, dove parliamo del loro vissuto, dove ci raccontano che tipo di attività facevano, quali erano gli strumenti che usavano nel loro lavoro, per esempio il ragioniere che usava i numeri, che usava la penna. Quindi queste cose servono molto da stimolo. Noi abbiamo visto persone che arrivavano ai nostri laboratori che facevano fatica a scrivere, non si ricordavano più come usare la penna, come scrivere. Alla fine del nostro laboratorio si sono scritti anche i loro nomi, cognome, quindi questo per noi è stato un successo, ma anche per il familiare. Continuiamo a parlare di benessere, ma anche di sport, perché sono state approvate dalla regione Emilia-Romagna le graduatorie dei due bandi 2019 per il sostegno della promozione appunto dello sport. In cinque anni la giunta regionale ha messo a disposizione 10 milioni di euro per manifestazioni sportive che promuovono lo sport e il benessere psicofisico delle persone. Un bando per gli eventi e manifestazioni sportive, un secondo bando per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l'attività motoria e sportiva. Anche quest'anno, con la graduatoria di questi due bandi, l'Emilia-Romagna sostiene l'importante patrimonio di capacità organizzativa, partecipazione attiva e socializzazione espresso dalle tantissime associazioni e istituzioni pubbliche che con il loro impegno hanno permesso la realizzazione di centinaia di eventi sportivi. Eventi che, in misura sempre crescente, rappresentano un'occasione di sviluppo per il territorio, anche con ricadute sul turismo e conseguentemente sull'economia regionale. Finanziati anche progetti legati alla pratica motore sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute e come strumento di integrazione sociale. Progetti di ampio respiro caratterizzati dalla collaborazione tra enti pubblici, associazioni, istituzioni scolastiche e aziende sanitarie territoriali. Quest'anno sono state presentate 369 domande sul corrispettivo di 2.700.000 euro che sono la cifra messa a disposizione attraverso il bilancio 2019. 190 sono state premiate per una percentuale che è pari a quella degli anni scorsi, si attesta attorno al 51%, quindi oltre 1 su 2 delle proposte presentate sono state premiate con una territorialità che quest'anno vede primeggiare Bologna che appunto ha il soddisfacimento del 58% delle richieste che ha avanzato attraverso il suo territorio e che modifica appunto anche la dimensione di una ipotetica virtuale graduatoria territoriale, segno di un dinamismo, di un approccio che tutti gli anni muta positivamente e che vivacizza fortemente il nostro territorio anche all'interno della ricerca della promozione appunto territoriale. Chiudo con un dato molto significativo che è un dato di quinquennio, cioè quanto sono stati messi a disposizione, quanto è stato messo a disposizione sugli eventi e sulle progettazioni sportive, quasi 10 milioni di euro, una cifra altissima, una cifra credo senza precedenti che ha consentito di mettere in campo centinaia e centinaia di manifestazioni e progettazioni che sicuramente qualificano il vivere nella nostra comunità. Ora la SPAL perché ieri sera a mezzanotte, la mezzanotte di Ferragosto, si è conclusa la seconda fase di mai sola la campagna abbonamenti SPAL per il 2019-2020, ovvero la parte del cambio posto o settore. La parte delle sottoscrizioni stagionali legata alle prelazioni dei vecchi abbonati hanno riconfermato oltre 7 mila posti, esattamente 7 mila e 57. Nelle giornate di oggi e domani, quindi venerdì 16 e sabato 17 agosto, vi sarà la chiusura tecnica alle ore 10 di domenica 18 agosto. Partirà invece la vendita libera che si chiuderà martedì 20 agosto sempre a mezzanotte e quindi alle ore 24. E intanto martedì sera a Palazzo Crema sono stati presentati nuovi kit gara SPAL per questa stagione, per questa nuova stagione Serie A. Oltre alla dirigenza SPALina ha partecipato alla prima anche lo specialista marketing sportivo di Macron, Nicola Camillo, referente per tutte le attività che hanno riguardato il coordinamento sullo sviluppo delle nuove maglie per la SPAL. Sentiamolo ai microfoni di Alessandro Sovrani. Nicola Camillo, per il terzo anno la SPAL veste Macron. Sì, questo è il terzo anno di collaborazione, è il terzo anno di Serie A. Mi piace comunque sottolineare che il progetto di crescita di questa squadra nasce anche da prima dell'avvento di Macron. Noi siamo entrati con l'esordi in Serie A, le ritorni in Serie A e per il terzo anno accompagniamo la società nella presentazione di queste maglie. Che novità quest'anno? Beh, diciamo sicuramente la novità principale a parer mio riguarda la maglia Whey, quindi la scelta del colore oro che per definizione è il colore del vincente, della vittoria e comunque rispetto della tradizione. La maglia bianca azzurra, come dire, non si tocca, è la tradizione, è la bandiera, è il simbolo di questa società e abbiamo voluto comunque presentare dei dettagli oro anche nella maglia Home per creare un po' di sinergia, un po' di coerenza tra la prima e la seconda, tra la Home e la Whey. Però mi piace sottolineare come la scelta dell'oro, del colore oro, sia l'elemento che contraddistingue questa nuova collezione. Un fil rouge che accompagna sicuramente la maglia Home, come vedete nei dettagli della costina della manica, del fondo del fianco e che poi si presenta nel piccolo dettaglio nella maglia Home e che poi esplode nella maglia Whey, dove è arricchito da un rigato verticale che dà questa sorta di fantasia gessata, quindi sinonimo di eleganza. Poi c'è la sorpresa che aspettiamo a settembre. Poi c'è la sorpresa, chiaramente non voglio anticipare nulla proprio per creare un po' di suspense e di rumor. La maglia terda la presenteremo appunto nel mese di settembre e sarà appunto frutto, risultato di un progetto speciale che ha contraddistinto gli ultimi mesi di collaborazione tra Macron e Spal, quindi veramente rinnoviamo l'invito anche alla prossima presentazione per quella che crediamo essere veramente il fiore all'occhiello di questa nuova collezione 19-20. Al compagno di collezione, qualche altra novità per quanto concerne film e tute? Chiaramente tutta la collezione allenamento, rappresentanza è una collezione che riproponiamo con uno stile diverso, chiaramente rispetto a quella precedente. È una collezione che sarà disponibile a brevissimo, è già disponibile da domenica nei vari Spal Store, principalmente allo stadio, quindi anche lì come nelle maglie bisogna sempre cercare di trovare un elemento, una colorazione, una fantasia grafica che possa essere accattivante, tanto per il giocatore che deve sentirsi comunque rappresentato quando viaggia, quando rappresenta questa società e per il tifoso che deve chiaramente riconoscersi nei colori e nei valori di questa bellissima realtà. In questi anni che riscontri avete avuto dal merchandising? Diciamo che l'esempio, la realtà di Spal è una realtà meravigliosa perché chiaramente con l'entusiasmo del ritorno in Serie A, con il legame molto molto forte della città a questa squadra, chiaramente poi il ritorno è concreto, il ritorno è sicuramente molto molto valido, quindi noi veramente ci consideriamo un partner molto 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 felice di questa collaborazione e crediamo di essere il partner ideale per valorizzare una realtà come questa in questo momento storico, dando la giusta attenzione che merita. Allora chiudiamo qua il nostro tv giornale per tutti gli aggiornamenti, vi ricordo il sito internet telestense.it, la pagina Facebook, il nostro canale YouTube, ma prima di chiudere vi ricordo anche gli appuntamenti su Telestense subito dopo il tv giornale, però partiamo dalle 21.30 con Ferrara Live, una puntata dedicata interamente al restauro e al recupero di Porta Paola e alle 22 segnaliamo una tu per tu con Patrizia Micai, l'avvocato Patrizia Micai e Francesco Colaiacovo per trattare l'argomento spinoso degli affidi dopo i fatti tragici di Bibiano. Allora chiudiamo qua il nostro tv giornale, grazie di essere stati con noi, arrivederci. Grazie a tutti.